Ciao a tutti ragazzi e bentornati a questo nuovo episodio di CSGO Tutorials Il mio nome è come sempre Quit108 E prima di iniziare vi voglio solo dire di smettere di dire Oh mio dio hai lasciato KSP, oh mio dio fai metro eccetera eccetera Perché ragazzi li farò soltanto che mi sto ancora un attimo acclimatando qua a casa E non ho molto tempo perché spendiamo un sacco di tempo per mettere a posto la casa ogni giorno E questi video qua mi risultano abbastanza facili Oltretutto questo sarà l'ultimo video su DAS2 Perché sarà il video dove vi mostrerò tre tattiche un po' più avanzate, un po' più di squadra per DAS2 E quindi dovreste avere una conoscenza più o meno completa della mappa E potremo passare quindi la prossima settimana a Nuke Che è di solito la seconda mappa che si affronta quando ci si allena in team Di solito si fa DAS2, Nuke, Inferno e poi le altre mappe dipendendo dalla preferenza Train possibilmente come quarta che è un po' più complicata Comunque sia partiamo subito con le tattiche Sono ovviamente tattiche da terra Sarà un video un po' più corto Saranno solo tre tattiche da terra Ma voglio farle da sole perché sono un po' complicate Allora la prima tattica che vi voglio far vedere È una tattica da primo round o comunque da round in eco Questo perché quando si è in eco ovvero in economy Non si hanno molti soldi O no? È un po' come la crisi in Italia ragazzi Insomma non abbiamo un granché di soldi E quindi vogliamo farne Se siamo terra uno dei modi migliori per far soldi È piazzare il C4 Perché ci dà dei soldi aggiuntivi anche se perdiamo il round Quindi è molto importante Una cosa importante anche da ricordarsi È che da terra non si vuole mai rimanere l'ultimo sopravvissuto E tenersi l'arma A meno che non sia una WP che vale 5000 dollari Ma per esempio per una K non ne vale molto la pena Perché si tende a togliere dei soldi se il terrorista non muore Perché i terroristi ovviamente dovrebbero essere devote alla causa E quindi morire o vincere il round Comunque sia Diamoci dentro ragazzi La prima tattica si chiama il fake in B Il fake in B si fa in modo abbastanza semplice In 3 fanno questo lavoro qua Vanno su di qua Scendono qui E si piazzano qua di lato A B Due di solito qua E uno qua Magari anche sopra questo Giusto per non far vedere l'arma E ascoltano Ascoltano i passi dei CT Che comunque attraverseranno qua E loro hanno la bomba Quindi la bomba è dentro il carretto Ok? La bomba è lì Loro non si muovono Perfetto Gli altri due invece Che di solito sono quelli un po' più skillati del gruppo Faranno questo mestiere qua Smoke Salteranno direttamente qua giù Soprattutto se è un primo round La smoke potete anche non prenderla Se è un primo round Ma aiuta tantissimo a confondere Che è quello che farete È smoccare in mid Saltare scale Arrivare qua Flashare oltre Flashare sopra Aspettate che esploda E rushare in BS Non vi dovete fermare qua È una cosa importantissima Non vi fermate qua Dopo la flash Correte subito in BS Tirate un HE Magari giù di là così E vi infilate qua Una volta in BS Cercate anche di andare a prendere lunga Insomma Fate tutto quello che fareste Se dovesse piazzare la bomba qua Cosa succede? Che nel 90% dei casi Il team avversario Non sta raccontando Quanta gente fa Vedrà delle flash volare Farà Oh mio dio sono scale Eccetera eccetera E quindi la gente Inizierà a spostarsi Verso scale Una volta che si hanno ucciso L'agente in BS I CT Per una cosa Umana e naturale Si sposteranno Verso B Cioè verso A Scusate Quindi è molto importante Questa cosa Dovete riuscire a vincere Le engage Ed è per questo che si mandano I due più forti Con le pistole Per lo meno In questo lato qua È un po' più difficile da fare Se gli avversari Ovviamente hanno delle armi Quindi se c'è una WP qua Volete Smoccare Possibilmente Se state passando Il vostro compagno Non il primo Ma il secondo Flasherà oltre le porte Continuerà a correre Voi flasherete Il primo flasherà Qua rimbalzo E oltre lì E il vostro compagno Tirerà un'altra flash In questa posizione qua Si Ho preso una K In questa posizione qua In questo modo Così che Se c'era qualcuno lì sotto Viene flashato Insomma Sembrate molti di più Di quelli che siete in realtà Avete creato 4 flash Una smoke Anche 2 granate a K E quindi fate tanto casino Voi siete tanti Anche se siete solo 2 Ok Questa è l'idea dietro Tutto questo Ovviamente I CT cosa faranno Molti Dei Dei backup da B Arrivano Tramite qua Quindi almeno uno dei CT Passerà da B Potrebbero passare tutti Da mid Quindi Ascoltare lì Potrebbe non ricavarne nulla Però Di sicuro I ragazzi Di B Verranno visti Dai ragazzi di A Cioè dai Terro che stanno in A E stanno facendo finta Di essere tanti Quindi vi potranno dire Guardate che stanno beccando Nel mentre Il CT passerà di qua Una volta che non sentite più i passi Quindi una volta che il CT è più o meno qui I ragazzi Con la bomba Faranno esattamente questo movimento Arriveranno qua Non tireranno flash Controlleranno bene Tutte le posizioni Potete anche camminare Ma dovete fare In fretta Comunque sia Una volta che siete qua dentro Potete camminare Per controllare le posizioni Però dovete fare veramente in fretta Perché Quel fake Lee Non durerà molto Arrivano e plantano qua Una volta che si è plantato In questa posizione Vedete che In teoria Vi avrei dovuto guadagnare soldi Ho guadagnato 300 Per aver piazzato il C4 E poi Uno copre qua Uno coprirà la porta E uno coprirà Il tunnel Una delle coperture di porta Che mi piacciono di più È questa Perché con la Glock Si è molto coperti da buco Si è coperti da porta Si è coperti da tunnel Quindi guardando la porta Posso fare così Se arrivano buco Posso andare qua Se arrivano tunnel Posso andare così E essere comunque coperto dal buco Dalla porta non tanto Però va bene Ok Leviamoci alle palle E ora il round Restarterà Però io Forse sono più veloce di loro Perché ho bindato tutto Perfetto Allora Ora che ho fatto vedere Questo rush qua Che è molto utile Noi lo utilizzavamo sempre Come primo round in Das 2 Vi faccio vedere Un altro fake Che è abbastanza particolare E si chiama La talpa Nella talpa C'è sempre una WP Ricordatevelo C'è sempre sempre una WP Ok Quindi prendiamo Le nostre granate Caghiamone un po' Perfetto Ok Allora La talpa La talpa La talpa funziona così La WP Mid Guarderai il mid Sparerai un colpo Si leverai dalle palle I ragazzi Gli altri 4 Intanto staranno Rushando Possibilmente armati In lunga Si tira una flash Oltre Ed è il primo A tirarla Poi quando il primo è qua Il secondo Tirerai un'altra flash Ok Il primo esce E Con una K Mira così Esce subito Non blocca i suoi compagni Però lui e i suoi compagni Non avanzeranno mai più di così Ok Non vi fate vedere in lunga Va bene Dopodiché Sempre il primo farà Questo Questo mestiere qua E tirerà una smoke In questo modo La WP Potrà arrivare E dire Oh bella Ma hanno smoccato Perfetto Io entro qua La WP Entra In Fossa E rimane qua in fossa Quindi lasciamo qua la WP Dopodiché I ragazzi Che erano in lunga Prendono E Ritornano indietro Ricordiamo che abbiamo usato Due flashbang Possibilmente anche Magari una terza A rimbalzo Due flashbang Qualche HE Forse E una smoke La WP Intanto Cosa ha fatto Perché questa è una cosa Molto importante La WP Era qua fermo A mirare In mid Ok Mentre gli altri lasciavano Dopo che spara il primo colpo La WP Farà questo Per questo questa tattica Deve essere fatta molto in fretta Farà questo Lui andrà in lunga Ok Nel mentre che lui va in lunga I suoi compagni Tornano mid Arriveranno mid Così Flasheranno Ok Si arriva qua Un'altra flash E si passa in quattro a scale Questo cosa ha portato Praticamente Quello che vedranno I CT è Tante flash in lunga Oh mio dio Sono tanti Stanno arrivando Vedono uscire Tanta gente in lunga Se ci sono Vengono uccisi Possibilmente Se siete bravi No E poi vedono una smoke qua Quindi sanno che voi siete in lunga Dopodiché Ehm Il ragazzo in mid Vedrà semplicemente Una WP che gli spara E quindi non starà guardando Il mid più Perché Dovrebbe ingaggiare E morire Quindi La WP tirerà una smoke E quindi Il ragazzo in mid Vedrà Solo Questa C'è un cane che abbaia fuori Va bene Vedrà solo questa smoke In mid E nel mentre La WP Sarà in fossa Quindi avrà Il vantaggio Su chiunque In BS Per ucciderlo E i ragazzi Invece che erano andati in lunga Passeranno scale E usciranno da qua Questo vuol dire Che il tizio scale Ovviamente ha paura Della lunga Ed è Esposto Verso le scale Per cercare anche Di coprirsi la lunga E i ragazzi scale Possono passare tranquillamente E killarlo Nel mentre Possono killare anche Gente che sta arrivando Da BS Come il mid Come il mid Che potrebbe mettersi qua A mirare in lunga Per cercare di prendere la WP Eccetera eccetera E quindi Questa è un'ottima tattica Per Per fare un piccolo fake Che comunque può risultare In dei rush Estremamente buonina Questa è una tattica Un po' avanzata Va Ci si mette un po' di pratica Nel farla Però funziona da dio Funziona estremamente bene Quindi Provatela Fatemi sapere cosa ne pensate L'ultima tattica invece E' proprio la ciliegina Sulla torta Allora Questa tattica qua Si chiama il ventaglio Il ventaglio E' una tattica Che personalmente Il mio team Ha vinto Circa il 90% Dei round Su Dust2 Nel senso che Noi da terror Vincevamo anche 13 round In un side Questo perché Eravamo estremamente forti Una volta Stavamo perdendo Credo 11 a 4 Per Per gli avversari Ovviamente Noi da CT Abbiamo preso 11 Cioè ci hanno fatto 11 round Noi ne abbiamo vinti Solo 4 Siamo arrivati Terro E abbiamo vinto 16 a 14 Quella partita Quindi abbiamo portato a casa 12 round Consecutivi Oltretutto perché I CT Avevano vinto Il primo round E quindi ne hanno vinti Altri 2 Dopo di quello E loro erano a 14 Noi a 4 Abbiamo vinto 12 round Di fila Con questa tattica Questa tattica È da usare Nei round In cui avete i soldi Comprate Siete tranquilli Etcetera Etcetera Proprio i round Di mezzo Ed è molto Molto Elaborata Si chiama Ventaglio Perché può Finire sia in B Che in A E soprattutto La squadra È molto sparsa Quindi Una cosa da ricordare Prima di incominciare Il ventaglio È che la bomba Deve sempre essere O qua Oppure In buio basso Mi sono perso Ok Oppure In buio basso Ok Quindi In questa tattica Ci deve essere Una vp Poi vi spiegherò Anche la variante Quit Che Era chiamata Proprio così Da noi Perché Comprendeva Due avp Però va bene L'avp In mid Si mette qua Mira mid Spara Qualche volta E tira Una smoke Ok Dopo che ha tirato La smoke Scende qua E si porta Qui E questa è la fase Uno del mid Ogni Ogni posizione Ha una fase Uno E una fase Due Ok Questa è la fase Uno del mid Rimane qua Guarda le scale Guarda magari anche un po' Il mid Però senza esporsi Troppo Rimane qua Ok Nel mentre Uno Con una k Si va a piazzare In questa posizione qua E chiama Se rush In lunga In questo modo Rimane qua Non ha la bomba Ha solo una k Ed è un personaggio normale E questa è la sua fase Uno Poi la bomba Potrebbe essere qua O in buio basso Come vi ho già detto Comunque uno qua Si piazza così E tenta di dare una mano Alla vp Nel caso avesse problemi In mid Nel caso di rush in mid Eccetera eccetera Quindi droppa la bomba Lì possibilmente In modo che se viene ucciso La bomba non droppa Tipo in base ct Però Rimane qua Coperto E poi da una mano Per ingaggiare le scale Nel caso Eccetera eccetera Ok Dopodichè Gli altri due Cosa fanno Gli altri due Sempre con la k E qui entra La variante quit Ragazzi Gli altri due Con la k Entrano camminando Quindi si inizia a camminare Da qua Entrano camminando In buio Uno tira una flash Così Ok E uno rimane A controllare Il buio alto All'inizio Mentre l'altro Con la bomba Nel caso ce l'abbia A meno che non ce l'abbia Il ragazzo Che sta andando Verso il mid Dove abbiamo già Adolpato la bomba Scende qua E si alza qua Una volta Che questo qua È qua sopra E sta controllando Le scale È finita la fase 1 Nel senso Abbiamo uno Che controlla Magari da qua È meglio Dalle scalette E poi uno Qua sopra Ok Nel mentre Che Nel mentre Che siamo in tutte Queste posizioni La fase 1 È completata E siamo tutti In posizione Se i CT Rushano da qualche parte Allora Dipendendo da dove Si uccide Si va Quindi se stanno Rushando in B I ragazzi In B ovviamente Li avranno Li cercheranno Di uccidere Se li uccidono Tutti in B Bomba prende Va buio basso Insieme alla VP Insieme a tutti Vanno tutti in B Ok Invece Se non sta succedendo niente Come succede nel 90% Dei casi Perché nei team forti La gente non avanza Uno sta guardando qua E inizia la fase 2 L'altro di buio basso Si porta velocemente Qua sotto Adesso devo iniziare a Prendere un po' di cose Pardon Ok Allora C'era il modo Di tirare Uno Tira una smoke Qua Così Avete visto come copre bene Questa smoke Ok Uno tira una smoke In quella posizione lì Sempre un altro Di quelli buio basso Ho attivato il noclip Tira una smoke lì Ok Quindi abbiamo una smoke lì E una smoke lì E poi si portano verso il mid Questo è un rush scale Praticamente Quello che succede è Uno di quelli buio basso Di solito quello con la bomba Si mette qua Ok Con una flash Pronta a lanciarla Mentre ci sono le smoke L'avp Prende e va in lunga E sta qua ad aspettare Insieme al suo compagno No scusatemi Pardon L'avp Prende e va a scale Insieme al compagno Che è qua in mid Quindi avp e compagno Iniziano a correre qua dentro Nel momento in cui sono qua Il ragazzo Il ragazzo di buio basso Con la bomba Tira Una flash in questo modo Loro escono già mirati Non devono tirare flash Né niente Arrivano qua e sono già mirati Questo è già flashato Quindi Possono controllare Tirano un'altra flash Oltre il muro Possibilmente senza sbagliarla Così Ed escono La vp si mette qua Cerca di prendere Chi c'ha in bs I due ragazzi Insieme anche a quello Che ha tirato la flash Perché quello che ha tirato la flash Fa questo movimento qua Quello che ha tirato la flash Fa così Tira la flash E si mette dietro la vp E inizia a lasciare anche lui Insieme a loro Ok Arriva la flash lì sopra La vp si piazza qua Cercare di prendere quelli in bs Loro lasciano in bs Quindi uno dei due Di quelli scale Ha la bomba per forza Perché o è quello Che stava vicino alla vp In mid O è quello buio basso Che ha la bomba Vanno in bs E plantano Nel mentre L'altro Ragazzo L'altro ragazzo Che era Qua in lunga Dopo che loro hanno lasciato E vede Sente la seconda flash Lanciata Inizia ad avanzare Camminando dalla lunga Quello che succede È che chiunque Era in lunga Sta andando a difendere Il bs Una volta che sente Sparare Non vede nessuno E può andare qua Inizia ad ucciderli Da dietro E quindi I ragazzi I ct I ct in a Si trovano In una situazione Dove hanno Una vp In scale Due che stanno Rasciando qua E uno da lunga Che è uscito Non si sa dove cazzo sia E il quinto Il quinto Boh Il quinto non è chiamato E questo è il problema Per i ct Il quinto Era a buio basso Vi ricordate È quello che si è esposto Qua a cercare di uccidere Il quinto Di solito Ero io Perché è la posizione Più infame Di tutti E il quinto Può mettersi In posizioni Come questa Come questa O come questa Questo perché I ragazzi in scale Non si devono preoccupare Di chi arriva da dietro C'è Quittolo In realtà Perché al tempo C'ero io C'è Quittolo Accamperato Come un ninja Un bastardo Un camper Delle proporzioni Più cosmiche Del mondo Dove chiunque Arrivi a cercare Di beccare Per scale Muore O comunque Sia viene chiamato Molto prima Di poter fare Di danni serie E prenderli Alla sprovvista Quindi Un'altra posizione Fantastica Era questa Io mi mettevo qua Miravo Chi usciva Da buio basso Perché qua Non ci mirano mai E quelli Invece in lunga Cioè quelli in mid Che lasciano così Tendono a guardare così Guardare così E fare questo Io non ho neanche visto Quell'angolo E qui ci sono io Ok Quindi Questo ventaglio In realtà Va a scale Quasi sempre E funziona Tutte le volte Perché Non sanno mai Quello che sta Per succedere E una volta Che decidono Ok Ne mettiamo 4 in A Per esempio Dicono Ok Andiamo in 4 in A Perché stanno andando in A Tutti i cazzo di round La VP in mid Vede passare solo uno in B Chiama Che ne è passato solo uno in B E i ragazzi Che stanno andando in buio alto Rushano B E dopodiché Si cambia tutta la tattica Rushano B Loro passano buio basso O mid E vengono in B Rushiamo in B Entriamo E ce n'è solo uno Siamo in due Riusciamo a killarlo Plantiamo E loro sono tutti dall'altra parte Della mappa La variante quit invece Che non vi ho ancora spiegato È la seguent It is the seguent Praticamente Quello che succede È che I ragazzi in B Arrivano Però Non vanno piano Rushano Di cattiveria Ok Rushano di cattiveria Tirano la solita flash Quello con la K Va a buio basso Io di solito Con la VP Invece di andare a buio basso Faccio questo E mi metto a guardare Se qualcuno avanza Qua in B Per cercare di avanzare Questa è una cosa Che si faceva molto di più Sul source Quindi non ve la consiglio In questa versione di CS Perché nel source Le posizioni di copertura Erano tipo qua dietro E qua dietro Il 90% del tempo Quindi avevi sempre Un CT che passava di qua E cercava di mettersi in posizione Mentre ora i CT coprono Coprono molto più dal BS E quindi Un'azione con la VP Che si espone così Serve a un cazzo Perché non li vedi Arrivare i CT Quindi ragazzi Spero che Queste tattiche Vi siano state utili Spero di non essere stato Troppo lungo Nel spiegarlo Comunque di averle spiegate Abbastanza bene Per l'ultima tattica Vi dico che Di solito Noi per impararla Perlomeno l'abbiamo Approvata tantissimo Ma veramente tanto E la sbagliavamo Ancora ogni tanto Perché è una tattica Abbastanza complicata Però Serve tantissimo In Das 2 Con gli altri E io stavo dietro A fare l'infame E a uccidere la gente Quindi noi Avevamo una cosa Da fare ognuno Il che rendeva Molto più facile Capire Ognuno si imparava Il proprio movimento E praticamente A un certo punto Funzionava un po' Come fosse un orologio Cioè eravamo meccanici Nel farlo E veniva quasi perfetta Anche se alcune volte Sbagliavamo qualcosa Però veniva quasi perfetta Soprattutto molte volte Si sbaglia Questa diavolo di smoke qua Questa diavolo di smoke qua È tremenda Perché tirarla In questo modo Dovete mettervi in linea Con questo Ok Mirare lì In alto Proprio Pelo sotto Al A quel muretto lì E schiacciare E lasciare subito Vedete L'ho già sbagliata È un casino Farla È un casino Perché deve rimbalzare Proprio piano Ok Deve rimbalzare Piano piano E deve finire Qua sopra Quindi è molto difficile Da fare Baus era quello Che la tirava E lui la faceva meglio Di me sicuramente Lanciate la Più o meno lì E poi Lasciate Lasciate andare Babam Fatta Perfetta E questa copre Tantissimo Perché se vedete Io arrivo scale Nessuno mi può vedere Da qua Se io sono un AWP E cerco di guardare Qua dentro Non vedrò un cazzo Soprattutto non vedrò Quei due che passano In buio basso E vanno verso scale Perché se riuscite A comprare una smoke C'è anche una smoke Lì Quindi potete capire Che è difficile La seconda smoke È giusto Per rompere le palle Ancora di più Per evitare Proprio che possa Prenderci In nessun modo Comunque ragazzi Questo è il termine Di questo piccolo tutorial Spero vi sia piaciuto Spero anche Di tornare al più presto Con Metroless light Con Kerbal E tutto il resto Il mio nome è Come sempre Quitono8 Fatemi sapere Cosa ne pensate Delle tattiche Qua sotto Nei commenti Mettete mi piace Se vi è stato utile Il video Ciao a tutti